Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il matrimonio più atteso dell'estate si è finalmente celebrato domenica 30 giugno 2024. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno pronunciato il loro sì eterno in una splendida villa medicea La Ferdinanda, conosciuta anche come Villa dei Cento Camini. Il rito civile si è svolto nel giardino della location scelta per i festeggiamenti, regalando un'atmosfera magica e romantica. Ma quanto sono costate queste nozze da sogno? I due innamorati non hanno badato a spese. La villa medicea La Ferdinanda si trova ad Artimino, nel comune di Carmignano, in provincia di Prato. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto la Toscana come cornice per il loro matrimonio, cercando un luogo che potesse accogliere comodamente i 200 ospiti. La prenotazione dell'intera struttura per un giorno ha un costo di 5.500 euro, secondo quanto riportato dal sito matrimonio.com. Cecilia e Ignazio hanno deciso di affittare la struttura per più giorni, quindi è presumibile che abbiano speso almeno 16.000 euro. A questa cifra vanno aggiunti i costi per il pernottamento, che variano da 487 euro per una camera a 800 euro per una suite, senza contare tutte le altre spese legate al catering, agli addobbi, alla musica e altro ancora. La famiglia che Rodriguez Moser ha sicuramente dato il massimo.